Non c'è pace per gli abitanti di via dell'Arzilla a Fano. Dopo che i residenti si erano lamentati per l'esecuzione dei lavori di un tratto di asfalto non ultimato all'inizio della via e poi sistemato il giorno seguente al nostro servizio, oggi sono le strisce orizzontali ad essere sotto la lente di ingrandimento dei cittadini. Una segnaletica orizzontale così non veniva fatta da almeno 20 anni e per questo dobbiamo sicuramente ringraziare l'amministrazione. Ma il problema, ci dicono i residenti, è che durante l'esecuzione della segnaletica orizzontale è mancata un po' di accortezza da parte di chi operava sulla macchina, dato che alcune foglie e rami si sono messi in mezzo tra la vernice e l'asfalto e sono rimasti anch'essi verniciati. Il risultato però è una segnaletica, diciamo un po' così, a macchia di leopardo oppure addirittura con le sagome, vere e proprie delle foglie, come fossero stati degli stencil. Sono state fatte ieri le strisce, ho voluto fare una battuta per evidenziare il problema che è stato fatto l'asfalto, a parte in alcuni punti va completato perché non è proprio il top, però almeno un attimino di shower fair di fare, di dare una pulita prima di fare le strisce. Le strisce non erano state mai fatte, una volta che vengono fatte facciamo un lavoretto decente. Il grosso è fare la sistemazione di questo ponte e della pista ciclabile che ci interessa da molto anni. Ed è proprio il ponte ciclopedonale a monte della foce dell'Arzilla l'altra criticità sentita e risentita da chi abita in questa zona. Ponte che come quello vecchio a Lido appena sostituito non versa affatto in ottimali condizioni. I problemi sempre i soliti, cemento che si segretola, tondini di ferro arrugginito che fuoriescono oppure addirittura grosse pozze d'acqua lungo tutto il camminamento che rendono veramente difficile passarci o con la bicicletta o addirittura a piedi. Questo è un ponte rifatto nel 79 dopo la famosa alluvione e non è stato mai più sistemato niente. Noi stiamo aspettando da parecchio tempo che vengono fatti questi lavori della pista ciclabile e anche la sistemazione del ponte. Viene una questione che viene rinviata di anno in anno e noi ci aspettiamo che questa famosa brucazia si chiude e si sistemino questo ponte perché la situazione è come si può vedere è pessima e poi anche le canne si stanno mangiando un po' tutto, è un po' tutto coperto di verde.